Musica LOL Poserita parla ragazzi, qua a Axel, oggi sono il canale, oggi sono il mio nuovo video e ragazzi questo è un video veramente speciale perché sarà il mio primo video con la facecam Perché pensi ragazzi è stata richiestissima e ho detto, già dato che tra poco stiamo anche raggiungendo i 20 miei iscritti non posso non aver fatto ancora un video con la facecam E quindi eccoci qua, allora ragazzi oggi andrò a pink parlare il giocatore che ho recenzito ieri che è Suarez If E prima di iniziare vi volevo dire un paio di cose, allora la prima è di farmi sapere ovviamente se volete anche nei prossimi video la facecam Invece la seconda cosa era questa ragazzi, una cosa abbastanza tattica perché non so se conoscete Harry, lo youtuber inglese che se non mi sbaglio il suo canale si chiama Roy Toshone Una cosa abbastanza ambigua e lui praticamente in ogni suo video indossa sempre lo stesso maglio, la stessa felpa diciamo E vi volevo chiedere appunto una piccola cosa abbastanza tattica Voi se potete consigliarmi una cosa da poter o far sempre vedere o indossare sempre perché so sempre la felpa, occhiali o cose simili Appunto da indossare sempre, la far sempre vedere in ogni video, quindi in ogni video con la facecam ovviamente Quindi ragazzi se potete consigliarmi scrivendo nei commenti e se potete lasciate anche un bel mi piace Appena arriverà 800, se questo video raggiungerà gli 800 mi piace io farò un altro pink palme di un giocatore potentemente costoso anch'esso E quindi detto questo io vi risaluto e vi auguro una buona visione del video, bolla Allora ragazzi ho appena tweetato su facebook però dicendo in poche parole di invitare Perché infatti su xbox ho notato che c'è la possibilità di invitare anche un giocatore che non sia tra la lista amici Quindi è molto più facile diciamo scegliere il vincitore Infatti adesso aspetterò che mi arrivino gli inviti poi a random proprio Sceglierò, accetterò uno di questi inviti Quindi aspettiamo un attimo che mi invitino e ci si sente dopo, bolla Allora ragazzi io farei che tra due inviti c'è io accetterò il secondo, il prossimo prossimo invito Ancora uno quindi, 1, 2, 3, 4, andri27 sarà il mio sfidante, accettiamolo Vediamo Quindi via, adesso cosa devo fare? Vado un attimo offline così c'è le preferenze di metto non disponibile Così che non mi arrivino ancora tutti gli altri inviti di gioco Vai Allora sono gasato per due motivi Il primo perché mi sto giocando un giocatore da 600 mila crediti quindi lo spintero oggi nel po' alto E per il secondo perché è la mia prima face a un dance studio Spero che mi piaccia, fatemi sapere se mi piace Mi sto alzando, mi sto abbassando Allora, 4, 3, 3, 2 Minghi, la liga portuguesa mi sembra abbastanza vagata Speriamo che non sia molto forte, ovviamente Allora, si sto usando la squadra giusta, si parte subito Dai, di testa, non ci arriva Umels, grandissima partita di Matt Umels Lo vedete subito Blasi, Blasi è partito No, non ci arriva, non ci arriva Non ci arriva Non ci arriva Yes Yes Grandissima palla Yes Paoligno, Paoligno, porca zozza No, traversa Dai Suarez Suarez Incrocia Mamma mia, le para tutte Erics è la metterà in mezzo dove c'è Umels che non ci arriva Segna, sacco No Calmiamoci Grandissima intervento Dai Dai, che cos'è? Madò, si ferma, si ferma Palla sua Che la mette lì L'hai preso? Grandissimo Umels Oh, oh, porca Giuda Perché di... Mer... No, no No Che balle Perdiamo già 1-0 Partita male È partita male Dopo la traversa è partita male Però subito 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 Oh mio Dio Non ci è arrivato No Che palle 1-0 Dai, Umels Umels per Mkhitaryan Ericsson Hop 1-2 Mkhitaryan La regnata di sinistro che ancora para Lo vede? Mamma mia che passaggio Mamma mia di prima e mezzo C'è Suarez Non c'è Non c'è Non c'è No Yes Dai Oh, ripartiamo Dobbiamo ripartire L'ha visto L'hai visto? Incrocia Incrocia Madonna Paoligno Paoligno Parata ancora 9 c'era sulla fascia Ah Perdiamo 1-0 7 tiri Lui 4 Che palle Riprendiamo No, almeno Se la perdo La voglio perdere Meritatamente per l'avversario Non immeritatamente per me Ce la puoi fare? Ce l'hai fatta? L'hai visto? Mkhitaryan Non riesce ad andare al tiro Erics No, mi sono scordato Che lo fa uscire Madonna Madonna Suarez Calmi Calmissimi Calmissimi Un cazzo Lo vede? Dai Segna No, ha sbagliato È la palla Ma stiamo Scherziamo Madonna Madonna Ioris Madonna Ioris Madonna Possiamo andare Non ci credo No, ha sbagliato Hop 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 No Calcio d'angolo Calcio d'angolo Ericsson La mette in mezzo Mamma mia No No L'hai visto Perché a lui Madonna Ma io non volevo Darla a lui No Madonna Che intervento Minghe Vai lancialo Ti prego Non lo lancia Che intervento Che intervento Madonna 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 La parata Non ci posso credere No 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 Eh, mi sa di sì No In mezzo No 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 E abbiamo perso Meritatissima Non voglio vedere i tiri 14 tiri Ho fatto Ave Maria Grazie a plena Maria Grazie Prima di chiudere il video Ragazzi Vi volevo dire Che se volete comprare Crediti Io vi consiglio Alla grande FIFA Coins Che per adesso Mi sembra che sia Il sito più Economico Di crediti di FIFA E ovviamente Affidabile al 2000 per 1000 Quindi detto questo Io vi saluto E vi dico potente A palacente Al prossimo video Bolla Ciao